Gianni Cavalleri è titolare di un'azienda specializzata in materiali per l'edilizia da oltre 40 anni. Una realtà stratificata che sta attraversando, come tutte le realtà imprenditoriali, momenti difficili legati ai rincari, luce, gas, materie prime. Una parte della sua attività ha cominciato da qualche anno a questa parte a gestire anche il discorso pellet e qui arriva la nota dolente. Quali i rincari? Sul pellet siamo al doppio, adesso dopo le ferie siamo un po' più del doppio, quindi molto di più. Per quanto riguarda gli altri nostri materiali che trattiamo siamo alla media del 60-70%. Considerando che attualmente abbiamo nuovi listini sui foratami, parliamo del 30% fra una decina di giorni e un paio di euro al metro quadrato sulle piastrelle. Poi ci sarà tutto il seguito, quindi tutte le altre ditte che aumenteranno. C'è da sperare sul cemento che si fermi, che non aumenti anche quello, altrimenti poi una catena su tutti gli altri materiali, sulle malte, intonici e tutto quanto. Parlando di pellet, di quanto è aumentato? Diamo dei numeri. Siamo passati dai 4,50 euro dell'anno scorso agli 11-12 euro attuali di questo mese e non si ferma qua sicuramente e continua ad aumentare. Purtroppo noi non ci possiamo fare niente perché trasporti e materie prime continuano aumentare, quindi noi non possiamo fare altro che aumentare. Spiace perché comunque mi mettono nei panni dei cittadini, ma purtroppo la realtà è questa. Quello che stiamo vivendo e quello che sta passando è stato un anno parecchio complicato dal punto di vista economico per quanto riguarda la congiuntura internazionale al di là della guerra che poi è arrivata. Sì, è stato un anno molto particolare, nel senso che noi abbiamo dovuto prendere una persona apposta per controllare i listini, perché ogni giorno, ogni ordine c'era da modificare i listini, soprattutto all'inizio dell'anno col ferro, ogni 15 giorni ho listino nuovo. Adesso ci troviamo con i trasporti, che ogni volta che ordini un viaggio, un autotreno, hai un 5-6-7% in più, dovuto al gasolio, dovuto ai rincari, dovuto a questo anno molto molto particolare. Ma di che cosa allora ci sarebbe bisogno, non abbiamo la sfera di cristallo ovviamente, in questo momento? Beh, un intervento immediato del governo, almeno togliere l'IVA, un 22% sul pellet comincia a diventare abbastanza importante.